a volte capita che i nostri alunni ci mandino delle fotografie o dei documenti in pdf perché magari non sono stati capaci di realizzare il compito come gliel'abbiamo chiesto oppure siamo proprio noi che chiediamo come compito di realizzare qualcosa che ci può essere mandato solo attraverso una fotografia o un documento in pdf rimane poi il problema della correzione questo che vi faccio vedere è un primo modo per commentare dei documenti pdf oppure delle immagini ammettiamo di preparare un lavoro che richieda proprio l'invio di una foto e di un documento assegniamo il compito al nostro alunno cosa vede il nostro alunno riceve il nostro avviso di compito e lo svolgerà scatterà la foto del lavoro e sceglierà il documento in pdf da allegarci come fa ad inviarci il materiale dovrà cliccare su aggiungi e poi scegliere file dopodiché allegherà i due documenti richiesti il pdf e la fotografia clicca consegna ed ecco i due allegati che ci verranno mandati questa è la finestra come deve apparire all'alunno ricordiamocelo bene questo perché a volte i nostri allunni ci dicono di aver mandato dei compiti e magari noi li vediamo anche ma il sistema li registra come mancanti questo capita quando loro non cliccano l'invio invece per essere sicuri di averlo fatto qui a loro deve comparire consegnato vediamo adesso che cosa succede nella schermata dell'insegnante la nostra torniamo sui nostri lavori del corso questo è il compito che abbiamo assegnato vediamo che il nostro alunno ci ha mandato il compito lo visualizziamo eccolo qua l'alunno ha consegnato i due allegati richiesti apriamo questa è la schermata che ci compare qui a destra abbiamo l'elenco dei documenti allegati pdf questo qua e poi l'immagine in questo modo io non posso fare granché ma se vado a cliccare su questo simbolino che è proprio il simbolino dei commenti compare questa barra che mi dice che posso evidenziare un area e aggiungere un commento ammettiamo che io voglia evidenziare questa ecco cosa succede questa è l'area evidenziata e qui mi compare l'area del commento esattamente come quando io lavoro su un documento di testo scrivo quello che devo scrivere e il mio commento verrà salvato apriamo adesso l'altro l'immagine il documento con la fotografia la fotografia mi compare così e io faccio la stessa operazione di prima clicco sul simbolino del commento mi compare di nuovo la barra che mi dice che io posso evidenziare un'area eccola qua e scrivere il mio commento perfetto dopodiché io che cosa posso fare posso aggiungere magari un commento globale sul lavoro stabilire una valutazione pubblicare il mio commento e poi ovviamente cliccare restituisci per mandare tutto al mio studente ecco fatto vediamo che cosa vede lo studente lui entra nei lavori del corso vede che il compito è stato addirittura valutato dall'insegnante visualizza il compito e qui c'è la sua pagina con i due compiti inviati dove c'è scritto con voto se lui clicca su questi due file all'inizio si apre o solo l'anteprima o una schermata nera e sembra che non si veda niente che cosa deve fare l'alunno deve cliccare dove ci sono i soliti tre pallini in alto a destra e poi scegliere apri in un'altra finestra ecco qua abbiamo aperto anzi il nostro alunno ha aperto il file con l'immagine e troverà la sezione scelta da noi e il commento che gli abbiamo mandato se ripete la stessa operazione con il documento pdf troverà la parte che abbiamo evidenziato e il commento che gli abbiamo lasciato